Contagi in calo in provincia di Brindisi. Secondo l'ultimo bollettino regionale sono complessivamente 12 i Covid-19 positivi, senza nessun ulteriore deceduto. Nelle aree maggiormente a rischio si tenta di contenere l'emergenza, superando anche i protocolli ordinari. Il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzillotti, attraverso una delibera di giunta, ha proceduto all'acquisto di 500 test rapidi per scoprire in pochi minuti la positività o meno al Covid-19 e a cui saranno sottoposti medici, operatori sanitari, agenti di polizia locale, forze dell'ordine, operatori e amministratori pubblici, addetti ai servizi essenziali, lavoratori del settore privato che oggi sono impegnati negli esercizi di vendita autorizzati e persone che presentano sintomi da coronavirus o che hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi. L'impegno di spesa è di 7.000 euro. A effettuare i test sarà un laboratorio di Ceglie Messapica. E intanto proprio a Ceglie l'amministrazione del centro San Raffaele sta cercando di limitare al massimo i rischi per i pazienti più gravi dopo che 9 degenti, 1 osse e 5 fisioterapisti sono risultati positivi. In reparto restano ricoverati solo i pazienti più gravi mentre è stata creata una fitta rete di isolamento precauzionale nei confronti dei potenziali nuovi infetti. Intanto buone notizie arrivano da Mesagne dove sono risultati negativi ai test tutti i 13 agenti della polizia locale dopo che due vigili erano risultati infetti la scorsa settimana. Grazie a tutti. Grazie.